Siamo a Carrara e qua inizia la tappa del Tour Provincie, grazie Sindaco di essere qua con noi. Grazie a voi di essere venuti, è un'occasione importante, speriamo di averne anche altre nei prossimi mesi perché di lavoro da fare ce n'è veramente tanto. Abbiamo collato l'occasione, siamo a un anno dalle elezioni e dopo 9 mesi di governo siamo sul territorio a raccontare quello che abbiamo fatto e a raccogliere ulteriori indicazioni per continuare al meglio questo percorso di governo. Sì, abbiamo raccontato ai tanti partecipanti quello che abbiamo fatto a livello governativo, abbiamo fatto tantissime cose che purtroppo i mass media fanno fatica a raccontare. Abbiamo parlato di quota 100, abbiamo parlato del reddito di cittadinanza, abbiamo parlato di aiuto verso le scuole, verso le piccole imprese e devo registrare una grandissima partecipazione anche da parte di tutti che erano particolarmente felici di queste iniziative governative che, ripeto, sovente purtroppo non vengono veicolate in maniera corretta da parte della stampa. Continueremo queste attività perché siamo convinti che noi realizzeremo il cambiamento. Ringraziamo il Presidente della provincia di Massacarrara che oggi ci ha accolto nel Palazzo Ducale, le numerose associazioni di categoria, ordini professionali che oggi insieme a noi hanno condiviso un percorso, un percorso che ci deve necessariamente accompagnare quotidianamente per portare i bisogni dei territori dentro i luoghi istituzionali, regionali e parlamentari e abbiamo raccontato diverse iniziative in essere anche sul livello regionale, la proposta di legge sulle professioni, tutte le proposte sul piano rifiuti e sul piano energetico ambientale regionale. Quindi avanti così perché questa è la strada giusta per fare della buona politica. A presto. Ciao a tutti da Carrara. Ciao.